Do quindi la parola alla professoressa Giuseppina De Simone, docente di filosofia della religione, è stato già ricordato, luoghi di senso e spazi di relazione, il sacro nella città. Bella occasione di riflessione che mi viene offerta e vorrei prima di tutto ringraziare l'architetto Dasha perché ci ha trasmesso attraverso la sua relazione questa forza che viene dal coraggio di sognare e dalla capacità di comunicare dei contenuti che sono contenuti di senso, di comunicarli con compassione e che poi assume quell'auspicio che veniva proposto dal professore Galantino alla fine della sua relazione, dare risposte di senso, risposte sensate alla domanda di vita che viene dalla città. Penso che veramente il progettare degli spazi di nuova urbanità, secondo la logica che ci è stata così splendidamente presentata, sia un dare risposte di senso alla domanda di vita che viene dalla città. Ecco, nella relazione dell'architetto Dasha si parlava di valori nei quali riconoscersi e di valori da trasferire sul piano urbano e tra questi valori c'era un riferimento alla fine dell'elenco che veniva proposto, se vi ricordate, alla dimensione spirituale con un punto interrogativo, quasi a chiedersi appunto qual è poi il posto dello spirituale nella vita della città, nella possibilità di immaginare nuove forme di urbanità, di immaginare una città nella quale sia possibile riconoscersi nei luoghi, sia possibile appunto sanare quella frattura tra lo spazio e la socialità. Ecco, potremmo dire sicuramente che c'è una dimensione immateriale nello sviluppo della città. C'è una dimensione immateriale nella vita e nello sviluppo della città che è essenziale per l'umanizzazione della città, perché nella città sia possibile vivere e vivere una vita propriamente umana, perché nella città sia possibile riconoscersi. Non a caso, nei documenti ufficiali degli ultimi anni sullo sviluppo umano e sostenibile, parole come spiritualità, visione spirituale e sviluppo spirituale sono sempre più frequenti. Da più parti si sottolinea che gli esseri umani dovrebbero essere in grado di realizzare tutte le loro potenzialità, incluse quelle collegate con la salute fisica, mentale e con lo sviluppo spirituale. La dimensione spirituale è da sempre grande generatrice di speranze, valori e dunque della stessa etica. Ecco perché essa tende ad essere riconosciuta come una delle condizioni centrali per realizzare uno sviluppo sostenibile della città e del territorio e potremmo dire una delle condizioni centrali per creare anche nuova urbanità, quella nuova urbanità della quale si parlava. Possiamo pertanto parlare di un polo spirituale di sviluppo della città, ad essa quanto mai essenziale perché la città riconosca e ritrovi la possibilità di una sua propria identità. L'identità della città è un'identità dinamica, costantemente ricostruita e rinnovata, un'identità in continuo processo di mutamento perché la città esercita una forza centripeta, capace di attirare tutti, anche il diverso, lo sconosciuto, lo straniero. La città è chiamata a tenere sempre aperte le sue porte, ad accogliere l'altro, sconosciuto e inatteso. La città ha di per sé una vocazione alla pluralità e alla complessità. Oggi, più che mai, essa è sollecitata ad aprirsi al mondo, a non attaccarsi ai suoi confini, che sono tra l'altro sempre meno definiti e definibili, ma a vivere di relazioni sempre più ampie, lasciando che nella particolarità del proprio territorio si respiri il senso dell'universale, in quella sintesi vitale e dinamica di locale e globale che ci veniva ricordata appunto come uno dei tratti più proprie delle forme di nuova urbanità. Ma perché la città viva, questa che Enzo Bianchi chiama l'arte dell'apertura, arte dell'apertura, perché abbia la capacità di integrare in sé il nuovo e il diverso, instaurando una nuova e ulteriore unità, è necessario che essa abbia un'anima, un principio spirituale che ne plasma la vita. Le città, scriveva un grande sindaco del Novecento, innamorato della sua città e della forza vitale delle città, Giorgio Lapira, le città hanno una vita propria, hanno un loro proprio essere misterioso e profondo, hanno un loro volto, hanno per così dire una loro anima ed un loro destino. Non sono cumuli occasionari di pietra, sono misteriose abitazioni di uomini e più ancora, in certo modo, scrive ancora Lapira, misteriose abitazioni di Dio. Ogni città possiede una personalità, ha una vocazione particolare, una luce e una bellezza destinata ad illuminare le strutture essenziali della storia e della civiltà dell'avvenire. Ogni città, potremmo dire su questa stessa linea, ha una musicalità sua propria, una disarmonica armonia di suoni, di voci, di storie, dalla misteriosa quanto realissima e sempre nuova composizione. Ogni città ha un sentire suo proprio. Che ci si riconosca o meno nelle premesse di fede che guidano la lettura quasi mistica del sindaco di Firenze, non si può negare che ogni città esprime, nell'andamento pur disordinato e talvolta caotico delle proprie vicende ordinarie e straordinarie, un ordine di significati, un orientamento di senso e di valori che è il frutto della sua storia spirituale, dei percorsi dello spirito indissolubilmente intrecciati alle pietre, all'aria, alla pioggia e al sole di quei particolari luoghi, così come agli eventi che hanno segnato nel tempo la vita di quel popolo. Non c'è città, non c'è vita comune senza una dimensione spirituale che questa vita esprime e contribuisce ad alimentare. Ma quale può essere il ruolo dello spirituale nella nuova urbanità? Si può parlare di un polo spirituale tra i poli di nuova urbanità? Come collocarlo? In quale relazione si pone con gli altri poli di sviluppo che contribuiscono all'edificazione dinamica della città? Qual è oggi il posto del sacro nella città? Se i poli vanno pensati in rete, se a caratterizzarli è un valore energetico che fa di essi una forza dinamica di aggregazione e di identificazione, se la mixitene è il tratto fondamentale per chi la città del futuro non può essere pensata se non in termini di integrazione, lo spirituale può dirsi a tutti gli effetti uno dei poli fondamentali di sviluppo della città, della costruzione di una nuova urbanità. A patto però che esso impari a pensarsi secondo la logica della disseminazione e del molteplice che è propria della contemporaneità. Non c'è più posto per una spiritualità che alimenti la tentazione sempre ritornante di una fuga urbis, né per la costruzione di spazi separati di un altrove che si opponga al confuso divenire della vita della città. I luoghi della spiritualità e della fede devono poter esprimere l'affacciarsi di un altrove nel qui ed ora della vita della città, di un territorio particolare e dei percorsi di vita che l'attraversano. Lo spirituale ha bisogno di essere ricompreso come nodo, come punto di convergenza e di incrocio di percorsi diversi, di tensioni e di istanze differenti. Lo spirituale può essere forza di aggregazione e principio di identificazione solo in quanto si pone, come fonte di senso e dunque di orientamento, in una dispersa e irriducibile molteplicità, alla quale è come frammisto, intrecciato. Non più dunque spazi e strutture dai confini netti, ma spazi aperti, permeabili, luoghi di senso e di relazione.